Un furgone grigio carico di soldi è stato fermato sabato sera a Ponte Caracciola, al porto di Genova, poco prima che il proprietario del mezzo si imbarcasse sulla nave per Tangier in Marocco. In seguito ad una segnalazione, gli uomini della polizia di frontiera hanno trovato all'interno del furgone, ben nascosti tra tubi, intercapedini e doppi fondi, 500.000 euro in contanti, mazzette da 50-100 euro, computer, tablet e telefoni cellulari. L'uomo, un cittadino marocchino di 47 anni e proveniente da Milano, si trova ora in carcere a Genova al momento accusato di riciclaggio, ma gli inquirenti stanno indagando sulla reale destinazione del denaro sequestrato, tra le ipotesi quella che servisse a finanziare organizzazioni legate agli estremisti islamici o a gruppi terroristici del Nord Africa.